... Buongiorno, sono una studentessa di Biologia, sto cercando... Guardi, affittiamo solo per brevi periodi e lei non mi sembra adatta. Mi sono trasferita qui per un progetto issocente. Se va bene, lo faremo sapere. Stiamo cercando casa. Ma i bambini sono con voi? Sì. Non si accettano animali. Buongiorno. La casa è vostra.